Radio Millennium è diversa anche nel presentare i prodotti radiovisione. I prodotti che vengono promossi dai nostri conduttori sono già stati testati da loro stessi. È così che sono sicuri che ciò che pubblicizzano è vero e garantiscono agli ascoltatori la validità dei prodotti presentati. Radio Millennium cura nei dettagli ogni promozione, come quella di The Coffee Way. Radio Millennium resta in testa.